Star Conference 2023, l'appuntamento molto importante in cui gli investitori si incontrano con le società quotate nel segmento Star che è appunto gestita da Borsa Italiana e non a caso questa intervista si svolge a Palazzo Mezzanotte che è proprio Piazza Affari, quindi proprio a casa di Borsa Italiana. Un segmento molto importante quello Star, tanto che si dice che ci sia la crema proprio delle medie imprese italiane in qualche maniera, molto internazionalizzate, molto innovative con ottime prospettive di sviluppo. Sono molto contento di avere con noi il dottor Andrea Cangioli che è il CEO di LN, basti dire che LN è la più importante realtà nel mondo dei laser, quindi proprio siete in qualche maniera veramente un punto di eccellenza, però poi intorno ai laser ci sono anche altre cose che vorrei approfondire. Ecco, cominciamo a spiegare quindi cosa fa LN e quali sono i punti di forza del vostro gruppo. LN è una società di alta tecnologia, sviluppa sorgenti laser e attorno ad esse sistemi laser per alcune specifiche applicazioni nel settore medicale e nel settore industriale che beneficiano delle specialissime caratteristiche che hanno le emissioni del laser e che nel tempo, grazie ai nostri ricercatori, abbiamo sempre più messo a punto e abbiamo sempre più reso coerenti con le esigenze dei mercati su cui operiamo. È un'attività bellissima perché è nata 40 anni fa dal niente, continua a crescere con grande rapidità e il punto di forza principale è proprio la capacità di innovarsi, di identificare degli sviluppi di questa tecnologia così affascinante che è il laser per poterla poi applicare nell'ambito dei nostri settori a nuove procedure, nuove applicazioni. Quindi noi facciamo delle cose interessantissime e diciamo da un punto di vista anche di attrattività generale come le applicazioni per estetica, togliamo le rughe, facciamo dimagrire senza sforzo, tonifichiamo i muscoli, depiliamo, ma anche applicazioni più diciamo così critiche tipo andiamo a togliere i calcoli a chi soffre di un attacco di calcoli oppure andiamo a ridurre la dimensione della prostata di chi soffre di perplasia benigna della prostata oppure utilizzando sorgenti di maggiore potenza andiamo a risolvere un problema comune per tantissime produzioni manifatturiere, quello di tagliare i metalli in maniera efficiente, rapida e precisa cosa che con i nostri sistemi diciamo avviene in tutto il mondo. E un grande merito di chi ha gestito con me e di Elena è stato di crescere le attività di questo gruppo, di farlo diventare un gruppo internazionale, di avere un footprint mondiale, noi abbiamo fabbriche dal Brasile alla Cina, quasi 2000 dipendenti, sempre orientate e basate sullo sviluppo e sull'applicazione di questa tecnologia laser ma sempre coordinate nelle loro attività per poter meglio crescere sui vari segmenti applicativi che ci hanno dato il successo che appunto lei prima citava. Allora, e proprio parlando di successo, diamo i dati del 2022, il 2022 è stato un anno record, non sono da vedere quelli del 2021 che saranno stati ugualmente brillanti perché poi c'è stata la ripartenza post pandemia, però non tutti hanno, anche se nel 2022 in generale le aziende sono andate bene, alcune hanno fatto addirittura meglio, insomma che non era così scontato perché poi il mondiale è cresciuto molto nel 2021, è cresciuto anche nel 2022 ma meno rispetto al 2021. Voi comunque siete cresciuti del 18% nei ricavi, avete un fatturato che supera ormai oltre i 673 milioni di euro, avete avuto un risultato netto di 55 milioni di euro, insomma un ottimo risultato. Però volevo capire, proprio guardando dentro questo risultato, ovviamente estremamente positivo, non so se sia un record, un record assoluto, quali sono stati però i segmenti di business, le unità di business e le particolarità che hanno trainato? Senz'altro abbiamo avuto due elementi trainanti di questo risultato, il settore dell'estetica e in particolare il settore della depilazione ha avuto grandissimo successo sui mercati internazionali, il mercato americano, il mercato medio orientale e ci ha portato ad essere il player più rilevante in questo segmento nel settore. E l'altro settore che è andato benissimo è stato quello delle applicazioni di taglio della lamiera metallica in Italia ed in Europa, dove la nostra società Cat Light Penta, che è basata a Prato, vicino a Firenze, è cresciuta di più del 50% quest'anno, un risultato eccezionale, che è stato talmente brillante, che ha coperto un risultato, l'unico risultato veramente negativo che abbiamo avuto in quest'anno eccezionale, che è stato quello della nostra divisione cinese, noi abbiamo 5 fabbriche in Cina che valgono circa il 15% del fatturato consolidato complessivo, che per via della questione dei lockdown sono andate malissimo, ma tanto bene è andato il settore qui in Italia e in Europa che abbiamo fatto più che compensato ottenendo un risultato eccezionale. E allora ci dia la guidance per il 2023. Il 2023 sarà un altro ottimo anno, dopo l'eccezionale 2022, prevediamo di continuare a crescere, in particolare nel settore industriale e in particolare recuperando in Cina, dove abbiamo sofferto nel 2022. Da un punto di vista dell'eredibilità pensiamo di confermare, di arrivare a confermare quella del 2022, che come ricordo è stata assolutamente eccezionale. Bene, vorrei ricordare anche che vi ha toccato relativamente, rispetto insomma aziende di altri settori, la questione dei rinchiari di energia, che non siete un'azienda energivora fondamentalmente, quindi insomma vi avrà inciso, ma non... Sono aumentati i costi, le bollette, riscaldare e raffreddare costa molti di più, ma davanti a una crescita del 20% questi costi sono stati assorbiti in maniera... senza troppi problemi diciamo. Guardiamo, prendiamo il cannocchiale, guardiamo a 5 anni, cioè volevo capire quali sono le strategie, insomma i caratteri principali ovviamente, delle strategie di LN per continuare a crescere. Normalmente le fasi di crescita possono essere anche rischiose, qualcuno si siede, no? Invece è lì che bisogna creare delle condizioni per continuare, per gettare, perché poi magari i mercati per 5 anni saranno diversi, per 6 anni, ma tra pesca. È così. Noi, la strategia di LN, che è quella che ha consentito a LN di arrivare a questa dimensione con una crescita continua, ricordo negli ultimi 3 anni abbiamo avuto una crescita media del 19%, negli ultimi 4 anni una crescita media del 18%, quindi diciamo che stiamo crescendo molto rapidamente. La nostra strategia si basa sempre sull'investire nella nostra capacità di portare sul mercato innovazione. E noi investiamo in ricerca e sviluppo, investiamo in persone, acquisiamo capacità, in modo tale che le competenze stratificate nel gruppo, col personale estremamente qualificato che viene assunto, con gli investimenti in strutture e laboratori, ci consentano appunto di essere sempre innovatori sul mercato. E essere innovatori in dei mercati che noi abbiamo selezionato, che hanno una tendenza di crescita prevista per i prossimi anni, ci dà una tranquillità e una sicurezza. Contiamo, grazie a questo, di poter continuare a crescere come è stato per gli ultimi anni, sfruttando le nostre capacità e la tendenza di crescita dei nostri mercati. Senta, una domanda adesso così proprio fuori sacco che è venuta, non è venuta. Lei ha parlato, dice, vendiamo persone di alta, ma si trova, no? Perché tutti si lamentano che soprattutto quando si tratta di persone qualificate c'è carenza, c'è carenza. Non è facile, c'è anche competizione, ce le rubiamo con i vicini, ce le hanno rubate, diciamo così non succede. Di sicuro si devono pagare di più, perché sono professionalità estremamente ricercate, e quindi ci deve essere anche una grande attenzione in quella che è, diciamo, non solo... Ci sono tutti gli aspetti del vivere bene, del far sì che queste persone possano essere produttive, ma non è facile trovarle. Bene, io ringrazio davvero tanto il dottore Andrea Cangioli, ci ha fatto un quadro sintetico, insomma molto esauriente, è un settore affascinante, sicuramente chi ascolta, no? Perché va a toccare la depilazione, la... cioè anche di... no, non solo quello ovviamente. Cosa che si conoscono. Però insomma, cose che subito uno dice come, che... Allora, lo ringrazio davvero tanto, ricordo l'intervista è avvenuta nell'ambito della Star Conference 2023, qui a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari. Ricordo il dottore Andrea Cangioli, S.O. di LN, che ormai diciamo è la regina dei laser, possiamo definirla così. Tra le regine, senz'altro. Grazie.